Hai presente quelle pubblicità in televisione dove si dice a grande richiesta? In questo caso è vero. Ma che cosa a grande richiesta? Allora, questo è un mese un po' particolare perché hai visto che ho lanciato gli abbonamenti sul canale che stanno funzionando abbastanza bene, quindi sono molto felice. Un'altra cosa che volevo lanciare in questo mese è un corso sul podcast. Un corso sul podcast. Era in programma già da un sacco di tempo, in realtà volevo organizzare prima microcorsi, poi ho pensato che meglio farne uno soltanto lungo e completo. E quindi ho fatto un corso che dura 24 ore con 8 incontri da 3 ore ciascuno, un incontro a settimana che parte a settembre, settembre 2023. Ed è un corso, come puoi vedere dal programma, poi ti lascio tutti i link in descrizione ovviamente, è un programma super completo perché parte dalla parte strategica, passa alla parte di ideazione del podcast, quindi il nome, la durata, la frequenza, se è un podcast a una sola persona, se devi fare interviste a distanza, come analizzare i dati, quali piattaforme scegliere e quant'altro. Passa poi alla parte pratica, dove si scelgono i microfoni, le schede audio, le cuffie, i registratori digitali e quant'altro. Si passa poi alla parte dove si lavora sull'editing, come si registra la traccia vocale nel modo migliore, come si fa editing, come si applicano gli effetti, come si pulisce il suono, come si esporta il suono. Stessa cosa per la parte video, perché oggi, lo sappiamo bene, tantissime persone fanno anche video podcast, quindi ti spiegherò stessa cosa dell'audio anche sul video, quindi come registrare il tuo podcast video dal telefono, dalla macchina fotografica, lavoreremo su diversi dispositivi, come fare editing, come pulire l'audio, come aggiungere la musica, come esportare il file, come sincronizzare audio e video. Fatto questo, poi passeremo a tutta la parte relativa appunto agli aspetti di promozione, quindi social network, il sito, il blog, altri tantissimi strumenti in realtà che ti permettono di poter pubblicare il tuo contenuto in giro per i social network, anche in altre forme, in altri modi e quant'altro. Parleremo poi di monetizzazione e degli aspetti legali legati appunto al tuo podcast. Bene, tutto questo lo faremo in 24 ore e saranno 24 ore molto 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 pratiche, perché lavoreremo effettivamente con gli strumenti, cioè ti farò vedere come registrare, come modificare, ti farò sentire vari strumenti e sarà un corso interattivo. Interattivo perché tu sarai lì con la webcam, col microfono e potrai interagire con me, facendomi domande, chiedendomi esempi, laddove io dico delle cose che sono poco chiare, puoi chiedere di ripetermi oppure puoi chiedere di approfondire un concetto, insomma sarà super 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 interattivo e al termine delle 24 ore ti assicuro che sarai in grado di realizzare un podcast che realmente funziona. Ora, ci ho pensato tanto prima di fare questo, di mettere fuori questo videocorso, perché ce ne sono tantissimi, tantissimi in giro che valgono due lire, costano due lire, sono poche ore, tutto il podcast in tre ore, in due ore, in cinque minuti o altro. 24 ore sono poche, sono poche però sono sicuro che in 24 ore posso darti tutti i concetti più importanti, poi magari in futuro ci sarà un corso di livello avanzato, non lo so, per adesso partiamo con questo. Siccome io amo questo lavoro, perché se volessi diventare ricco con questo lavoro avrei perso in partenza, quindi siccome amo veramente quello che faccio, ho pensato al di là del costo del corso che è molto basso e più tempo passa più aumenta il corso, come si fa un po' dappertutto, quindi adesso costa una cifra, se lo compri fra tre mesi costa un'altra cifra. Il corso parte a metà settembre, il 16 settembre se non ricordo male, ma tutti i link e tutte le informazioni in descrizione. Quindi il costo aumenta, ma per te che sei abbonato al mio canale, sai che ci sono tre livelli di abbonamento, c'è quello barba corta, dove è semplicemente un dire grazie perché costa 99 centesimi, quindi nulla. Barba media, che costa 4,99 euro al mese, chi è abbonato a 4,99 euro al mese ottiene uno sconto del 50%, quindi niente, lo paga niente questo corso. Chi invece è abbonato al Barba Lunga lo paga zero, zero, totalmente gratuito. Ovviamente questi abbonamenti devono andare avanti almeno fino alla fine del corso. Se vuoi ottenere questi sconti, non devo certo dirtelo io perché sei una persona intelligente e sveglia, ma ti conviene probabilmente abbonarti al canale. I posti sono limitati perché utilizzeremo Zoom come piattaforma e benché ho l'abbonamento full a Zoom per cui potrei avere fino a 100 persone in video, ovviamente il corso è limitato, i posti sono veramente, veramente, veramente limitati. Perché? Non per fare il figo, per strategie di marketing o altro, perché siccome è una vita che faccio corsi, soprattutto marketing, comunicazione, social, bla bla bla, e anche podcast, anche se individuali finora, so bene che quando ci sono troppe persone in aula non si riesce a dialogare. Cioè tu vuoi fare domande, ci sono gli altri prima, non riesci mai ad avere la parola, oppure il tuo esempio non verrà mai fatto e quant'altro. Quindi per dare la possibilità a tutti di partecipare attivamente il numero è molto, molto, molto limitato. L'ennesima prova che non voglio 100 persone lì, perché sì, magari guadagno anche qualche soldino, ma non mi interessa guadagnare soldini, non perché io sia ricco, perché voglio fare le cose fatte bene. E se segui il mio canale sai che è la verità, ok? E se no facevo altro, se volevo guadagnare a questo, avevo sbagliato proprio in partenza, perché non si guadagna una lira qua, ok? Però è la mia passione, mi fa star bene, io lo dico sempre e lo dirò sempre. Nella vita non si vive solo di lavoro, ma ci sono dei valori importanti e tra questo c'è appunto il fare qualcosa che ti fa star bene, che ti arricchisce, che ti fa crescere. Questo canale mi sta dando veramente questa opportunità. Il numero dei posti è limitato, quindi al raggiungimento del numero di posti che io ho immaginato, le iscrizioni verranno chiuse, ok? Quindi se pensi di aspettare più in là, uno, non ti conviene perché il prezzo aumenta, due, non ti conviene perché non trovi il posto. Io sto lanciando questo video qui adesso per te, ma fra una settimana lo aprirò al pubblico. Farò delle ADV su Instagram, su Facebook e quindi riempirò il corso. Quindi ho pensato di darti qualche giorno di tempo a te che segui il mio canale appunto per avere la possibilità di iscriverti. Ci conosciamo già, quindi è molto più semplice, altrimenti apro comunque la pubblicità, le ADV a pagamento su Instagram, su Facebook, forse su LinkedIn, su YouTube stesso e ovviamente, come puoi immaginare, riempirò molto velocemente il corso. Bene, io ti ringrazio per aver guardato questo video. Se hai domande, dubbi, curiosità, commenta questo video e io sarò felice di rispondere. Ti lascio ancora una volta il link in descrizione del corso in modo che tu possa andare a vedere il programma, ok? Grazie mille e ci vediamo prestissimo. Ciao!